Mammina, ti è qua. Perché? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ne abbiamo su questa nave. Io non lo so. Possiamo ancora fungere da questa nave. Grazie a tutti. 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 , , a tutti.